Buongiorno, sono Arcangelo, un anno fa ho fatto l'intervento di protesi al pene, è passato quasi un anno, va tutto bene, tutto a posto, non ci sono problemi. Non riuscivo a tenere le lezioni e allora con il professor Antonini abbiamo deciso di intervenire per mettere questa protesi. Il primo intervento non era tanto buono perché non si riusciva a portare fino a un rapporto e non andava, invece adesso si porta a fine il rapporto e va bene. Per il piacere di Lorena c'è tutto, anzi pure tanto. Un giorno, una volta due. Se c'è questo problema riprendere subito provvedimenti, fare questo intervento e vedrai che si risolverà tutto. Sono Maria, l'anno scorso mio marito ha fatto l'intervento per la protesi al pene, aveva questo problema per l'erezione, non si riusciva ad avere un rapporto completo e dopo l'intervento il problema è andato molto meglio, si è risolto. Adesso il nostro rapporto è completo e siamo soddisfatti. No, lui è tranquillo, è soddisfatto. No, non è una cosa meccanica, no, assolutamente. C'è sentimento, c'è sentimento, è una cosa naturale. È una cosa naturale, come se fosse proprio naturale, se non c'è stato niente. No, 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 assolutamente no, ma dopo 33 anni di matrimonio diciamo che l'intimità è molto affiatata, quindi no, no, assolutamente no, io lo consiglio perché diciamo se uno vuole bene alla persona e quindi vuole mantenere quest'amore diciamo tra coppia, giustamente sì, lo consiglio vivamente. No, ma senti proprio pure il desiderio, si senti il desiderio. Sì, sì, no, no, assolutamente. Se vuole bene alla persona i lami e il desiderio, cioè, oia, si senti proprio. No, no. Eh no, è una cosa naturale perché uno c'è affinità di coppia, quindi diciamo diventa una cosa naturale. Sì, sì, naturalissima. Sì, sì, contenta, oia, soddisfatta.